Voto Niccolò Rinaldi perché sa dare risposte coraggiose e innovative, ma soprattutto perché ha l'esperienza, la conoscenza, la preparazione giusta per guidare il nostro partito. Stimo Rinaldi anche per la sua rettitudine personale e per la sua pacatezza, per i suoi valori legati a una trasparenza e un'anestà intellettuale. I nostri pensieri hanno bisogno di verità, di certezze, di legalità e di essere nutriti di onestà. Per questi motivi io al congresso del 28, 29 e 30 giugno voto Niccolò Rinaldi e ripartirò con lui sulle ali del Gabbiano.